La comunicazione che faccio a nome dei gruppi consigliari Cambiamo, Lega e 5 Stelle, noi non parteciperemo alla discussione e al voto di questa delibera e delle successive, compresa la mozione, perché riteniamo che questo sia già il primo esempio di un'assoluta indisponibilità al dialogo. Queste le parole con cui Luigi Di Placido, fresco di nomina, vicepresidente del Consiglio Comunale, ha annunciato che i principali gruppi di opposizione avrebbero lasciato l'aula per non partecipare ai voti dei temi all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale del nuovo sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Primo fra tutti la delibera del debito fuori bilancio, reso necessario dalle spese sostenute per le inondazioni dello scorso maggio. Avevamo già chiesto che ci fosse dato del tempo per approfondire la questione, ha spiegato Di Placido, non ci pare che 20 giorni in più avrebbero potuto cambiare qualcosa. Un braccio di ferro, quello tra maggioranza e opposizione, che si era già verificato a inizio seduta al momento dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Il PD con il nuovo capogruppo, Lorenzo Plumari, ha proposto Nicoletta Dallara, mentre Andrea Rossi, assieme a tutti i gruppi di minoranza, ha puntato su mister 900 voti Enrico Castagnoli. E così si è andati subito allo stallo con l'elezione che ha avuto luogo solo alla terza votazione, Nicoletta Dallara, eletta con la maggioranza assoluta di 16 voti. Dopo una breve pausa si è poi passati alla presentazione delle linee programmatiche alla relativa discussione fino ad arrivare ai primi provvedimenti. E lì si è verificata la spaccatura con i gruppi di opposizione che hanno abbandonato l'Aula. Unico Superstite Vittorio Valletta di Cesena siamo noi, rimasto per votare il primo atto dell'Era Lattucca, la dichiarazione di emergenza climatica proposta da Enrico Rossi del PD. L'atto, in linea con quanto chiesto dal gruppo Friday for Future, prevede un impegno formale a ridurre le emissioni di CO2. In questo modo Cesena diventa il primo comune dell'Emilia Romagna a impegnarsi in questa battaglia.